Ora qui è Reina Arriva in appuntamento Ma questa partita E' una stumertesa E' il segno della bilancia Quindi di solito le bilancia sono delle persone abbastanza equilibrate No? Si dice Ma non sappiamo se poi in realtà lo è Anche lei La tutta 10 invece E' Chiara Chiara arriva a Maccon Anche lei è una stumertesa Il raccoglio del titolo è il vero Il successo Il risultato del titolo è la danza Quindi il patro da che è insomma Il raccoglio del posto Il raccoglio del titolo è il suo Anche lui aggiungi E' capo di fare il nostro numero 9 Il numero 10 Sto parlando appunto di Taina e Chiara Come si dice La casa è la bella Alla buona Alla buona La serie lunghissima O corti cortis O montagno E' capo di questa foto Sempre a salve